Io non posso perdere tempo con voi, siete un branco di incapaci. Figuriamoci, persino le scimmie e le cavallette vi mettono in crisi. Voi non vincerete mai contro di me, però se volete, io sono pronto. Ehi, Gohan, mi senti? Sono io, sono Junior, mi senti? Gohan, rispondimi, Gohan, mi senti? Sono Junior! Riesco a comunicare direttamente con te grazie a Caio. Tu devi chiedere a Polunga di far resuscitare me per primo! Chiudete il becco! Ascoltate, se io resuscito, anche il Supremo tornerà in vita. E con lui anche le sfere del Drago della Terra con il quale possiamo far resuscitare anche voi, avete capito? E adesso passiamo al secondo desiderio. Devi ascoltarmi, Gohan! Ascoltami, Gohan! Dopo che sarò tornato in vita, chiedi al Drago di farmi venire su Namek. Io voglio battermi, voglio farla pagare a quel mostro di Freezer per aver ucciso la gente del mio pianeta. Voglio vendicarmi di persona. Stando qui sono diventato potentissimo. Ormai posso battermi con lui. Fammi venire su Namek, Gohan, mi senti? Bravo, Gohan! Il terzo desiderio è tutto per te. Davvero? Non ricordo affatto di averglielo promesso. Mi dispiace. Si vede che ho la memoria corta. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, quel Freezer, ma lo farò fuori. Io sono vivo! Esprimi il secondo desiderio! Forza, Gohan! Ecco il mio pianeta di origine. Il pianeta Namek. Finalmente, era da tanto che desideravo vederlo. È una sensazione meravigliosa. Più bello di quanto immaginassi. Che cosa mi prende? Non è il momento di fare sentimentali. Devo trovare subito Gohan. Ma dove possono essere? Non riesco a sentirli. Che cosa sono queste vibrazioni? Sento che sta arrivando qualcuno da molto lontano, ma non so che sia. Che cos'è? Avverto una presenza molto potente. Oh, la sensazione che si tratti di quel verme di Freezer. Cosa? Ci sono altre tre presenze. Deve essere Gohan. Molto bene. Sto arrivando, Gohan! La forza spirituale di Gohan sta scomparendo. Resisti, sto arrivando, Gohan! Grazie.